Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del telegiornale è dedicata al raid vandalico che si è consumato a gela ai danni di un giardino pubblico con giochi per bambini nel centralissimo quartiere Capo Soprano. Siamo andati a vedere. Là dove lo Stato è assente e ingiustificato. Là dove non ti aspetti di trovare il degrado più assoluto e il rifiorire di una criminalità alimentata dall'abbandono assoluto della civiltà e del rispetto per le cose e le persone. Capo Soprano Il quartiere è ricco e culturalmente avanzato della città di Gela. Qui vivono professionisti, insegnanti, giovani impegnati nel sociale. Riceviamo tante segnalazioni tra ansia e preoccupazioni di chi qui ha scelto di vivere pensando ad una quotidianità non agiata o privilegiata ma quantomeno normale. A due passi dalla via Pitagora, dal polo scolastico che comprende diversi istituti di istruzione superiore tra cui un liceo, ecco il panorama che ci si trova davanti. Le immagini parlano e si commentano da sole. Inorridiamo dinanzi alla sporcizia e allo scempio che regnano sovrani e dopo lo sconforto iniziale ci poniamo delle domande. Perché accade? Perché si decide di devastare scardinando addirittura, immaginiamo con un certo impegno e fatica, un piccolo spazio originariamente pensato per bambini e famiglie? Ma siamo veramente così a suoi fatti, abituati al brutto che ormai nulla ci impressiona più di tanto? L'individualismo sfrenato ci ha inesorabilmente condotto ad abbandonare luoghi di incontro reale per preferire quelli virtuali più sicuri sul comodo divano di casa nostra? Siamo davvero tutti concentrati sul piccolo luminoso quadratino interattivo del nostro smartphone, tanto da non farci rendere conto che stiamo precipitando in un pericoloso abisso? Se davvero così è, allora prepariamoci a restare sempre più soli, al sicuro delle nostre poco sicure abitazioni, mentre fuori il disagio di molti diventa devastazione. A proposito, abbiamo scritto questo pezzo concentrandoci sulle parole da scrivere, andiamo a controllare di aver chiuso bene la porta. Un gelese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un ordine emesso dalla procura della Repubblica, si tratta di Mariano Bonvissuto. L'uomo dovrà scontare 8 mesi di reclusione per evasione denunciato un albanese di 26 anni per inosservanza degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Durante i controlli amministrativi e gli esercizi commerciali, il personale della Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione ha controllato 9 agenzie scommesse, elevando una contravvenzione e operato due sequestri, deferendo alla magistratura un 28enne e un 46enne per esercizi abusivi di scommesse online. Durante l'attività di polizia sono state controllate 505 persone e 239 veicoli, elevate 14 contravvenzioni al codice della strada. Con le nostre telecamere abbiamo seguito la consegna della merce sequestrata dalla locale guardia di finanza all'associazione di volontariato Gela Famiglia. Vediamo. È stata consegnata all'associazione di volontariato Gela Famiglia la merce sequestrata ultimamente dal locale comando della guardia di finanza nell'ambito di alcune operazioni anti-contraffazione eseguite in città. Si tratta di 42 paia di scarpe e di 18 paia di pantaloni che rappresentano la prima parte di diverse donazioni che a breve verranno effettuate e che permetteranno di dare una nuova vita alla merce giacente nei depositi della guardia di finanza e presso l'ufficio reperti della procura. Comandante, in pieno clima natalizio arriva un pacco dono per Gela Famiglia, un'associazione che assiste tantissime famiglie e grazie al vostro lavoro oggi potete far sorridere un po' di famiglie. È un onore poter dare nuova vita a questa merce che era merce contraffatta e che tramite un lavoro certosino messo in atto dai miei ragazzi, dai Baschi Verdi, sono riusciti a epurare dai marchi che avrebbero reso la merce non cedibile. Adesso ci troviamo a fare questo regalo che sotto Natale effettivamente può sembrare un pacco dono, però è un'attività che va avanti tutto l'anno. Siamo felici di poter aiutare una città che comunque è in difficoltà e che ha bisogno anche di questi gesti per far capire che le istituzioni sono vicine. Ricordiamo che voi vi occupate ovviamente di reati continuamente e qualora il marchio non potesse essere rimovibile dall'oggetto deve essere distrutto. Sì, siamo costretti a distruggere l'indumento, la scarpa, la cinta, quello che insomma riporta l'effigie che andrebbe poi a colpire il marchio originale. Dobbiamo comunque tutelare la legalità, ma quando è possibile fare uno strappo legale alla regola e quindi andare a rimuovere questo marchio siamo ben felici di poterlo fare e di poter donare questa merce. Questa merce sarebbe stata destinata al macero. Grazie a questa iniziativa invece ne potranno soffrire, come ha detto bene lei, tantissime persone. Un paio di scarpe. È come quando una ha le scarpe rotte e da noi vengono persone con le scarpe rotte. Siamo in Sicilia, siamo a Gera, non siamo nel terzo mondo. Siccome noi viviamo e sappiamo qual è la realtà vera della famiglia, c'è molto bisogno di solidarietà. Voi seguite già tantissime famiglie, ma ultimamente ci sono nuove fasce di povertà, come i padri separati che devono lasciare la casa, lasciano le ex mogli in casa con i bambini, devono continuare giustamente a mantenerli e loro si ritrovano spesso a vivere per strada. Esatto, questa fascia è la fascia dei ragazzi padri, ma anche le ragazze madri. Cioè molte ragazze vengono da noi perché non sappiamo la loro storia, non si sono sposate, lui non ha riconosciuto il figlio, quindi si trovano sole e c'è solitudine, perché quando c'è problema in famiglia c'è solitudine, c'è tristezza, ricade tutto poi nella società. Domani a partire dalle 10.30 presso la sala della Biblioteca Comunale di Niscemi si svolgerà la conferenza regionale del nuovo PSI sul tema per una nuova politica socialista, capire il presente per programmare il futuro di Niscemi, a salutare i presenti e introdurre il tema, sarà il coordinatore comunale, il niscemese Saro Laporta, previsti gli interventi del coordinatore provinciale, il gelese Bruno Antonuccio che relazionerà sulla nuova politica socialista del nuovo PSI a Niscemi, a cui seguiranno gli interventi delle diverse autorità e dei vari rappresentanti politici locali che hanno accettato l'invito e confermato la loro presenza, mentre a chiudere i lavori sarà il coordinatore regionale del nuovo PSI Sicilia, il gelese Enzo Antonuccio che dibatterà su Niscemi, piattaforma avanzata e innovativa per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico e aziendale. Alle conclusioni seguirà l'approvazione del documento programmatico da parte del Comitato regionale del nuovo PSI Sicilia che si trasferirà nel pomeriggio a Gela per un'analisi dell'attuale situazione politica ed una perlustrazione delle iniziative da intraprendere nei prossimi mesi. Ieri direzione provinciale del Partito Democratico, oggi direzione locale. Quali sono i temi più importanti che avete portato ieri e che oggi porterete sul tavolo? I temi sono ripartire sull'unica cosa in cui noi possiamo ripartire, che è la politica, l'attività, dopo una sconvizza che abbiamo registrato ma da cui ci vogliamo immediatamente emancipare. Un PD compatto oppure ci sono, come più volte sottolineato, a Gela due anime? No, il Partito Democratico è sempre uno, poi c'è chi ha fatto scelte diverse e lo rispettiamo ognuno per la sua strada. Guarda, noi subito, già a gennaio, ripartiremo con un grande convegno regionale insieme allo Svimez e a presenze regionali e nazionali per parlare di Gela e di Mezzogiorno. Ecco, si è parlato tante volte della crisi galoppante a Gela. Quali sono gli sviluppi che il PD sta portando realmente in città? Ma siamo di fronte a una crisi che non ha precedenti nella storia recente e siamo di fronte a una situazione anche politica ingarbugliata. Il PD ha avuto sempre una posizione certa rispetto a questi eventi, che è quella che la visione industriale della città deve continuare a rimanere e che questa città deve continuare a mantenere un ruolo da protagonista sia nello scocchiere regionale che in quello del Mezzogiorno. Perché riteriamo che Gela meriti di essere al centro dell'attenzione di qualsiasi governo dovesse nascere, anche in prospettiva, e rispetto anche al governo attuale. Ma guarda, il PD ha fatto una scelta dopo quel congresso, che è la scelta di stare in mezzo alla scelta e di fare iniziativa politica. E su quello noi non retrocediamo, anzi continuiamo e rilanciamo. Ultimamente è nato a Gela un nuovo soggetto politico che fa capo alla sindaco domenico messinese. All'accelata ai rapporti? Ma tutti sanno il mio giudizio. Io ho un'idea della politica che è quello che i partiti devono rappresentare interessi generali. Tra l'altro rispetto a una crisi così profonda e così radicata, e l'ho detto là anche in quella sede, io ritengo che la risposta siano i grandi partiti e i grandi movimenti che rappresentano gli interessi generali, non gli interessi particolari e di piccole comunità. Quindi il mio è un giudizio di grande rispetto per qualsiasi soggetto democratico nasce, ma se devo dare un giudizio specifico, il mio giudizio è di quantomeno di perplessità, nel rispetto di un soggetto politico che è nato. E in merito ad un giudizio che invece lei dà all'amministrazione comunale, considerato che siamo quasi a fine anno, si fa sempre un bilancio? Tutti sanno che più che la mia posizione qual è la posizione del Partito Democratico e qual è la posizione che sia la direzione del Partito Democratico. E coerentemente il gruppo in consiglio del PD ha sempre avuto che è un giudizio sostanzialmente negativo. Noi riteniamo che la città abbia bisogno di maggiore slancio, di maggiore convinzione e soprattutto, caro direttore, io sono convinto che questa città abbia bisogno di maggiore coraggio. Perché quando c'è una crisi così profonda e così drammatica, la politica deve avere coraggio e forza per superare una situazione così complicata. E soprattutto ci vogliono quelle forze politiche che abbiano rapporti anche sul sociale e nei territori che possono avere riferimenti soliti a livello regionale e nazionale. Quello che le posso dire è che il Partito Democratico non si sottrarrà mai alla scommessa di sostenere questa città. La Conf Commercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza. Si tratta del corso RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore, rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Conf Commercio Ascom Gela in via Cicerone, numero 10410, dalle ore 9.30 alle 10.30, dalle 16 alle 19.00. Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0933 939718. Terza mostra dei presepi allestiti dalle scuole di Gela. L'iniziativa promossa dal Proloco è stata inaugurata ieri a Palazzo di Città. Vediamo. Sono stati due piccoli studenti dalla scuola Don Milani a tagliare il nastro ieri sera per l'inaugurazione della terza mostra di presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco. La manifestazione è stata benedetta dal parroco della Chiesa Santa Lucia, Donna Luigi Petralia, ed è stata accompagnata dalle musiche natalizie proposte dall'associazione Sergio di Dio di Antonio di Dio. Il comune è la casa di tutti i presepi, i presepi fatti e realizzati da alunni di diverse scuole e quindi presepi in comune come è stato già coniato l'anno scorso. Questa è la seconda edizione che viene effettuata all'interno del Palazzo Municipale ma la prima è stata fatta in un'altra location. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri il sindaco Dominico Mersinese e il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Acia. Noi l'abbiamo voluto l'anno scorso e abbiamo voluto quest'anno riportare insieme alla Proloco proprio nella città di tutti i gelesi dove credo deve essere un punto di incontro e non deve essere solo un palazzo estraneo alla collettività. In un momento di crisi economica e sociale veramente la città ha bisogno di avvicinarsi in maniera sincera a questo Natale affinché il nostro cuore si possa aprire fino al punto di fare nostra qual è stata l'esperienza di San Francesco ovvero sia spogliarci delle nostre ricchezze e aprire il cuore a Gesù omnipotente così come fece lui quando è nato nelle grotte e fuori dalla città, fuori dalle mura. L'iniziativa il cui ingresso gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco Gela i presepi come simbolo di rinascita, verità e giustizia frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole dell'artigiano artista della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. Un invito però lo vorrei fare lo faccio alla cittadinanza che quando viene al centro storico a passeggiare di fare un salto qui al comune di Gela a primo piano per apprezzare questi particolari presepi. Anche perché l'ingresso è gratuito? L'ingresso è assolutamente gratuito e poi dare in qualche modo e apprezzare il lavoro che hanno fatto nelle scuole di Gela è sicuramente un motivo che dà soddisfazione sia a chi lo ha realizzato che a chi lo guarda perché ci sono dei presepi particolari e ce ne sono diversi che consiglio di guardare perché devono essere letti e interpretati. E' presente anche una bancarella di beneficenza della Soloptimist Club di Gela. Abbiamo voluto essere presenti con la Proloco perché così ci ha dato la possibilità di poter effettuare questa vendita e questa bancarella di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ai paesi terremotati del centro Italia ma anche alle realtà locali. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Durante l'inaugurazione di ieri si è esibita la cantante Anna Salsetta ad accogliere i visitatori sono stati gli studenti dell'istituto alberghiero diretto da Grazio Di Bartolo offerte degustazioni dolci e salate grazie al contributo di alcuni sponsor. Il 6 gennaio è prevista una pesca dell'epifania Ed è stato inaugurato ieri sera il presepe vivente nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante alla parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela retta da don Giovanni Tandurella è stato ricostruito il villaggio di Betlemme con strutture semplici in cui è stata inserita la natività e le ambientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri falegnami, fabbri, lavandaie, fornai re magi, re erode con la corte e i soldati romani arricchite dalla degustazione di pietanze gastronomiche che richiamano le tradizioni culinarie legate al nostro territorio presenti numerosi animali il presepe vivente potrà essere visitato fino al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre dalle 18.30 alle 22.30 apertura mattutina per tutte le scuole la sezione scout Fabio Rampulla di Gela con il patrocino del comune presente il presepe vivente i prossimi 21, 22 e 23 dicembre dalle 19 alle 21 verso il centro scout di via Mongibello Angolo via Giulio Siracusa e torna il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore presieduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamente prossimi 25, 26 e 27 dicembre 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte lunedì 19 dicembre alle 16 sarà inaugurato il presepe vivente nella scuola primaria Nelson Mandela che fa parte dell'istituto comprensivo Gela e Butera diretto da Agata Gueli i bambini sotto la sapiente guida degli insegnanti si sono adoperati per ricostruire gli antichi mestieri all'interno dello spazio antistante alla scuola ogni mestiere verrà rappresentato dalle singole classi E in edicole il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale questi gli argomenti più importanti del numero un'altra apertura sulla vertenza Eni il giornale riferisce infatti dell'ultimo vertice a Palermo dove l'azienda ha confermato l'intenzione di rinunciare alla piattaforma a mare per una stazione gas a terra Giulio Cordaro nella sua rubrica di prima pagina denuncia le angherie cui giornalmente sono sottoposti i cittadini da parte di chi eroga servizi pubblici c'è poi l'intervista all'assessore comunale Licia Abela con cui Zaira Placenti conclude il suo lungo viaggio nella politica al femminile Nello Lombardo raccoglie commenti sulla nascita del nuovo movimento politico ispirato dal sindaco messinese nelle pagine interne attualità e cultura con articoli e servizi di Lucrezia Ferro Cinzia Sciagura Gianni Virgadaule Flavio Centamore infine lo sport con le finestre sugli impegni calcistici di Gela e Terranova ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale a Gela c'è una realtà che cresce Ship Lab celebre il più importante traguardo dalla sua fondazione e oggi ha inaugurato non soltanto la propria nuova casa ma anche il primo spazio di co-working a Gela oltre 700 metri quadrati che diventeranno un luogo creativo e un centro di innovazione a 360 gradi vediamo prove tecniche di successo questa non è soltanto una inaugurazione ma è il taglio del nastro per un nuovo inizio per un futuro diverso sì un nuovo inizio è un obiettivo che abbiamo raggiunto il primo obiettivo che si è prefissato a Ship Lab dalla data di nascita quindi due anni e due mesi fa ottobre 2014 l'abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto con entusiasmo con tanto duro lavoro impegnando investendo sia il nostro tempo che il nostro denaro e siamo veramente orgogliosi di questo quali sono i prossimi obiettivi adesso rendere operativa questa sede? l'obiettivo è rendere operativa e ci siamo ci siamo arrivati ma l'obiettivo è anche farla diventare un centro di networking una palestra per talenti è un luogo veramente dove poter sviluppare competenze le idee qui trovano casa? sì esattamente proprio perché questa non sarà solo la nostra sede dell'associazione Ship Lab ma in realtà è una sede aperta a tutti al pubblico e a tutti quei soggetti che hanno voglia di creare imprese di svolgere la propria professione di avere uno spazio fisico a disposizione e soprattutto di mettere in condivisione appunto il sapere il saper fare e dare modo appunto di creare quell'humus utile per creare nuove attività culturali economiche e che diano veramente sviluppo al nostro territorio l'azienda Amaru ha sempre dimostrato di credere nei giovani oggi più che mai concretamente mettendo proprio a disposizione un immobile che è diciamo il primo elemento per poter cominciare a discutere di concretizzazione delle idee beh diciamo che ho accolto anzi la famiglia Amaru ha accolto questo grido che loro in maniera silente mi hanno confessato in una riunione in azienda e dopo una breve riflessione li ho portati in questo immobile chiuso da otto anni perché non lo utilizziamo e quindi vediamo di questo immobile trasformarlo così come gli dicevo in una fucina delle idee abbiamo bisogno che le eccellenze di questo territorio non vadano fuori a fare esperienza o meglio andavano fuori a trasferirsi invece qui dobbiamo cercare di creare quel piccolo laboratorio che permette a questi giovani di esprimersi e di poter attraverso anche una rete molto fitta anche quella confindustriale di poter fare delle attività che sono afferenti all'esigenza delle imprese moderne appuntamento con la musica domani alle 19 nella chiesa Sant'Antonio di Gela previsto il recital pianistico di Nicolò De Maria sempre domani alle 19 al palazzo della cultura principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto lirico strumentale con Monia Placenti soprano Cristina Marazzotta Clarinetto Chiara Ocorso al violino e Nuccia Scerra al pianoforte l'iniziativa rientra nel cartellone 82esima stagione concertistica gelese organizzata dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela adesso parliamo di calcio si gioca a porte chiuse domani Gela Sarnese fischio di inizio previsto per le 14.30 e Biancazzurri dopo l'immeritata sconfitta subita a Lentini e dopo gli strali del giudice sportivo vogliono ricominciare a vincere vediamo si giocherà in uno stadio vuoto non era mai caduto nella storia del Gela domani la gara con la Sarnese prevista per le 14.30 non avrà spettatori dopo la decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale Direttanti che analizzando il referto scritto dall'arbitro Alberto Catastini di Pisa direttore di gara della partita di domenica scorsa a Lentini è andato giù pesante nei confronti della formazione allenata da Pietro Infantino la squadra biancazzurra giocherà a porte chiuse la decisione lo ricordiamo è stata motivata dal fatto che durante il secondo tempo della gara di domenica contro la Sicura Leonzio il sostenitore biancazzurri si legge si sono resi responsabili di aver lanciato sputi all'indirizzo dell'assistente di linea attingendolo ripetutamente alla schiena e alle braccia ad aggravare la posizione dei tifosi del Gela ha detto ancora il giudice arrivava pure il lancio sempre all'indirizzo dello stesso assistente arbitrale di una pietra che sorvolava la sua testa per andare a cadere successivamente sul rettangolo di gioco piangerci addosso serve poco lo dice il nuovo arrivato in casa gelese Maico Candiano credo che non sia il calcio che merita questo Gela credo i ragazzi soprattutto dopo una partita importante a Lentini anche se si è perso comunque si è giocato 80 minuti in meno è che comunque è un peccato anche per la città perché è una partita molto importante per noi quindi volevamo rifarci col pubblico però anche senza pubblico cerchiamo di dare il massimo come sempre Candiano nonostante la sconfitta subita Domenica Lentini ha visto una squadra in ottima salute che ha giocato per 80 minuti e più in inferiorità numerica è stata una partita perfetta solo che un po' di fortuna magari a volte fa la differenza per domani c'è il tuo debutto ce l'auguriamo speriamo di sì speriamo che il mister mi metta in campo cosa ti ha indotto a dire sì al direttore sportivo Giovanni Martello dunque a sposare il progetto Gela guardi io già inizio anno comunque col direttore si sa ero a Leon Forto con lui e col mister quindi magari inizio anno volevo venire però purtroppo c'è stato quell'attimo di indecisione qui a Gela quindi ho dovuto fare giustamente un mio lavoro ho dovuto fare un'altra scelta però a dicembre ho voluto fortemente questa maglia sia di lavorare col mister che col direttore per tornare con lui a far bene per la gara di domani il tecnico Pietro Infantino dovrà fare a meno dello squalificato Campanaro da verificare le condizioni di Bonaffini e di Bruno questo Gela secondo te dove può arrivare? questo Gela può arrivare dappertutto perché comunque è un'ottima squadra ma impressionato come modo di giocare come corso poi è una squadra molto giovane quindi credo che può arrivare molto lontano cominciando da domani anche senza pubblico con i tre punti sì assolutamente speriamo di raccogliere più punti possibili qui fino alla pausa intanto questa mattina si è svolto il consiglio di amministrazione del Gela dall'analisi dei fatti relativi alla gara di domenica scorsa contro la Leonzio è emerso che ci sono stati gravissimi episodi perpetrati durante e dopo la partita per la quale la società conferma che giorno 23 dicembre prossimo presenterà un copioso dossier presso la Lega Nazionale di Lettanti la partita Gela Sarnese di domani si giocherà al Presti a porte chiuse con un grave danno economico e sportivo oltre alla caduta d'immagine ma la gara a Gela Sarnese era anche l'ultima partita del 2016 sotto le festività natalizie come da tradizione la società aveva preparato la solita e attesa festa il club biancazzurro chiede scusa se non sarà possibile fare gli auguri al pubblico in modo gioioso a fine partita ma arrivino chiari e forti a tutti gli sportivi i migliori auguri per il santo Natale c'è l'informazione cinematografica in proiezione al Cineteatro Antidoto di Macchitella il film La Stoffa dei Sogni con Ennio Fantastichini e Sergio Rubini appuntamento alle 19.30 e alle 21.30 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci alle prossime edizioni a tutti i tanti a tutti i tanti